È stata la squadra volante della questura di Arezzo ad intervenire in un'abitazione e arrestare il responsabile di reiterate violenze contro una donna. A chiamare i soccorsi è stata proprio la vittima aggredita dall'ex compagno. I due ex conviventi avevano litigato e l'uomo Ugi, le sue iniziali, 57 anni, albanese e clandestino, si era scagliato contro la ex compagna. Dopo averla malmenata si era anche trattenuto nell'abitazione tenendo la donna in stato di sottomissione. Al momento dell'arrivo degli agenti l'aggressore si è scagliato anche contro di loro, tanto che uno dei poliziotti ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. L'uomo è stato arrestato per resistenza e violenza pubblico ufficiale per la vittima, è scattato il codice rosso. Una volta in questura sono state immediatamente avviate le procedure per l'espulsione nella giornata di sabato. L'uomo è stato condannato per direttissima ad un anno di reclusione per maltrattamenti, lesione e resistenza pubblico ufficiale. La Polizia di Stato lo ha quindi condotto in un centro per il rimpatrio in Albania.